Eccoti qua, ciao Marco, ben trovato. Ciao a tutti. Come stai? Ciao a tutti, buonasera, buonasera, tutto a posto, ciao. Scusatemi ma sono in giro per la città. Ci vediamo dopo l'andata in quel Cagliari Parma e allora ti ringrazio innanzitutto della disponibilità, so che non era facile perché eri fuori di casa. E allora ti chiedo da subito, come sta questo Parma che nelle ultime tre partite, sette punti, un pareggio con il Modena, che alla fine poi si poteva anche vincere? Sì, infatti è quello il grande rammarico perché fondamentalmente forse il Parma non ha fatto tutto quello che poteva per vincere e solo nel finale con l'ingresso di Mijla ha avuto una marcia in più e è arrivata alla conclusione più spesso. È una squadra che rispetto a un mese fa per i risultati sta meglio, è una squadra però che fatica tremendamente a segnare e che concede sempre una o due occasioni importanti agli avversari. Quindi diciamo che sono a mio avviso cambiati un po' i risultati, la squadra un po' più compatta ma non è molto diverso dal Parma come prestazione, che perdeva le partite di misura, che mancava l'appuntamento con la vittoria. È una fase interlocutoria e diciamo così il Cagliari è una partita verità in tanti sensi da questo punto di vista. Certo c'è la striscia positiva e questo è un dato incontrovertibile e soprattutto non così diffuso nel campionato del Parma. Assolutamente. E ti chiedo, la cosa che mi ha un po' stupito perché ho visto l'ultima partita in modo della Parma, era da un po' che non mi capitava di riuscire a vedere le partite del Parma, però Mijla è un giocatore che comunque gli equilibri risposta, soprattutto in Serie B. Però ho visto che nelle ultime partite non è partito da titolare dal primo minuto, ma è un problema, nel senso che è più facile utilizzare un giocatore come lui a gare in corsa in grado magari di spaccare la partita, di approfittare magari della stanchezza dei difensori oppure perché l'arrivo di Zanimacchia gli ha un po' tolto la titolarità. No, c'è un problema fisico soprattutto. Mijla si è fatto male, è stato fuori tanto, è un ragazzo veramente molto interessante, però è veramente... Fragile. Sì, è fragile, molto spesso si infortuna con una regolarità disarmante. Questo sta già limitando molto la sua carriera. Se pensate che l'anno scorso in fondo era l'unico giocatore del Parma che è stato scelto e osservato dall'Atalanta, portato da Gasperini in gruppo, poi ha giocato pochissimo. È tornato a Parma, è partito benissimo all'inizio del campionato e poi ha iniziato una serie di infortuni continui proprio e adesso ha ritrovato il campo, però è stato fuori due mesi e mezzo. Quindi è lì che c'è il problema, altrimenti credo che sia un titolare insostituibile per il Parma perché ha una capacità di... Ha uno scatto che secondo me pochi giocatori anche in serie hanno. Ha un gran tiro, è un giocatore davvero che può incidere nelle partite come nessuno nel Parma, come può fare Vasquez. Però c'è questo problema fisico ed è molto fragile. È capitato l'anno scorso di vederlo infortunarsi anche calciando una punizione, quindi è un ragazzo molto fragile. L'arrivo di Zanimacchia a gennaio, cioè un fedelissimo di Pecchia perché l'ha avuto nella Juventus Under-23, l'ha avuto nella Cremonese la scorsa stagione e alla fine è riuscito ad averlo anche a gennaio anche perché in serie A non trovava spazio e a quel punto diciamo che è un giocatore che in serie B è un surplus. Sì, per ora... Non ha tradito le attese? Un pochino sì, adesso. Non vorrei essere impietoso però è andato a corrente alternata, ha fatto la differenza in alcune partite ma in altre è mancato, anche a Modena. Non so se hai avuto occasione di vederlo. Sì, Modena sì, esatto. Ha corso tanto però ha inciso poco, secondo me si è mangiato un gol perché ha avuto un'ottima occasione e qualcosina in più però c'è questo morbo che colpisce i giocatori quando arrivano a Parma e negli ultimi due anni hanno sempre reso meno che altrove, quindi gli vanno dati tanti scusanti. È una squadra che veramente fatica ancora e a Parma, lo si spera, nel finale di campionato capisca la differenza e l'importanza di vincere una partita o di portarla a termine invece in maniera un po' più sbagata. Forse anche la società che non ha dato il giusto peso alle vittorie, a quanto sia importante vincere, non c'è tanta pressione ma internamente sulla squadra l'ambiente fa pressione, non tanto perché Parma è una città molto civile e soprattutto dove i giocatori fanno la loro vita senza situazioni troppo assillanti. Però diciamo così si è fatto contagiare anche lui. Ok, il giocatore che comunque fa la differenza, ne avevamo parlato anche all'andata perché non era ancora in formissima, ovvero Vasquez che poi con il Cagliari fece una partita incredibile perché io mi ricordo ancora, faceva veramente la differenza, io mi ricordo che avevo fatto il paragone Vasquez per Eero. Mi ero scusato su Twitter dicendo perché il Vasquez è visto oggi a Cagliari, stiamo parlando di un altro giocatore e comunque il valore aggiunto di questo Parma, tra l'altro sta giocando come Fasoneva, è il capocanoniere, è l'assisman del Parma, quindi è il giocatore più pericoso. Non l'ho visto benissimissimo contro il Modena. No, no, non è stata una partita felice per lui, è il giocatore attorno al quale ruota comunque la fase offensiva del Parma, è il miglior realizzatore, il miglior uomo assist, anche i numeri dicono questo, quindi il rendimento del Parma dal punto di vista offensivo è strettamente legato alle prestazioni di Vasquez e nel girone di ritorno ha fatto meglio che nel girone d'andata. Io ho questa impressione personale, ma lo dicono anche i dati, se Vasquez gioca a centravanti in una gara in cui il Parma mette in pieno una sorta di assedio, l'avversario si chiude, fa molta fatica a trovare spazi e di conseguenza non trova le sue giocate. Quando ha più spazi, come in contropiede, come a Frosinone, lì diventa una festa perché un giocatore che ha pieno un po' di spazio è assolutamente di un'altra categoria. Speriamo che la prossima giornata, insomma, tra l'altro c'è una bella sfida, Vasquez e la Padula, che sono comunque i due bomber, sia del Cagliari che del Parma, ti posso dire che è un Cagliari sicuramente diverso rispetto all'andata. Ce lo aspettiamo, ce lo aspettiamo anche perché tu ben sai che Liverani era stato a Parma e quindi noi a Parma si aspettavano un avvio del Cagliari di questo tipo e ha rispettato le attese. Ci preoccupa tanto Ranieri perché a sua volta è stato a Parma e sappiamo come nel finale del campionato Ranieri sappia tirare fuori delle armi molto importanti. Ecco, mi stupirei se non leggesse la partita nel modo giusto Ranieri. Secondo me è un allenatore che sa benissimo che il Parma se tiene in mano il pallino del gioco, rinunciando invece al possesso palla dal punto di vista del Cagliari e giocando di rimessa, mettendosi un po' dietro alla linea del pallone può creare grossissime difficoltà al parma. Tra l'altro, notizia sappiamo allora di Capradossi, stagione finita, è mancoso stare fuori due barra tre partite che comunque insieme alla Padula è il giocatore più in forma del Cagliari in grado comunque di creare superiorità numerica, insomma, è il trequartista. Quindi bisognerà capire anche che tipo di squadra, che tipo di Cagliari scenderà a Parma. C'è la possibilità anche di cambio modulo. E ti chiedo, quale può essere in chiusura la probabile formazione del Parma? Come sta anche dal punto di vista dell'infermeria? E guarda, tra l'altro, un siparietto, non so se ho modo di inquadrarlo. Appena passato, riesce anche a me a Benedicciac. Ecco, tra l'altro, un gol pazzesco a Modena. Sì, è un buon giocatore, è un buon giocatore, è molto giovane e anche lui, guardate l'attenuante, sta giocando in una squadra che per noi fa fatica dal punto di vista realizzativo. Probabilmente in un'altra situazione, lasciato sbariare sul fronte d'attacco in maniera più centrale, potrebbe fare anche più gol. Perché lui è più punta centrale, giusto? È più punta centrale. Ecco, tornando alla formazione, credo che tra i pali giocherà Buffon, la difesa accusa l'assenza di Osorio, che non sta facendo un gran campionato, però è un altro difensore centrale in meno, perché manca anche Lautaro Valenti. La coperta si è ristretta molto, è partito Romagnoli, quindi c'è un casting in mezzo per affiancare Cobaut tra Cercati e Balog. Uno dei due giocherà al fianco di Cobaut, sulla destra del Prato, sulla sinistra Ansaldi. Una variazione sul tema, ma non l'ha mai fatto Pecchia e non è uno che fa grandi esperimenti nelle varie idee importanti, e a centrare del Prato e mettere a destra Coulibaly. Questa potrebbe essere una possibilità. Allo stesso modo Ansaldi e Coulibaly si giocano una maglia. Coulibaly ultimamente ha fatto bene, Ansaldi è un giocatore più forte, ovviamente. Questo lo sappiamo. Davanti alla difesa Estevez e Juric. A destra Zanimacchia. A sinistra c'è questo dubbio. Se non ce la farà bene, potrebbe essere Cimiaila, ma il minutaggio messo da parte è piuttosto ridotto. Fino ad oggi non escludo che giochi nel secondo tempo, e allora potrebbe giocare Mann dal primo minuto. Dietro Vasquez, altro ballottaggio tra Camarà, match winner a Cittadella, e Bernabè che è rientrato, ma non ha giocato bene. Queste sono le possibilità con la variante ulteriore, perché in questo momento Pecchia ha tanti giocatori a disposizione, che non giochi uno dei due centrali davanti alla difesa, ovvero o Estevez, titolarissimo, o Juric, più probabile, e Bernabè vada a giocare davanti alla difesa per una partita di manovra, un regista in più, diciamo, quello che davanti alla difesa manca al Parma. Perfetto. Anche Bernabè è un altro giocatore che all'andata ha fatto una bella partita. È un Parma diverso rispetto anche negli uomini, nei primi undici? Sì, ho questa impressione che Pecchia in questo momento non abbia trovato forse ancora il suo undici, ma abbia un gruppo e lo abbia un po' ristretto. Guarda caso, nelle ultime due parite, 90 minuti in panchina per due gare consecutive, più un'altra panchina lunghissima per Charpentier e inglese. Pecchia non sta più schierando questi due giocatori, che hanno avuto problemi fisici, soprattutto Charpentier, però 90 minuti consecutivi in panchina. In un derby che non stai vincendo e magari vuoi provare a vincere, è un segnale abbastanza chiaro sull'intenzione dell'allenatore. Sì, infatti. Anche su inglese sono andato a controllare se fossi infortunato, perché anche lui a livello fisico non è al 100%, invece non sta proprio giocando. Evidentemente lo sappiamo. Insomma, un basket, se fosse un web, ti dà magari più imprevedibilità rispetto a un inglese che sappiamo che è un giocatore con caratteristiche completamente diverse. Marco, io ovviamente ti ringrazio per la tua disponibilità, davvero. Ci sentiamo sicuramente via messaggio per le ultime news di questi giorni. Ovviamente, l'in bocca al lupo per la sfida di sabato alle ore 14, perché è un vero e proprio scontro diretto sabato, insomma. Altrettanto crepi il lupo. Ovviva il lupo. Ok, grazie mille. Ciao Marco. Ciao, ciao. Grazie davvero. Ciao, ciao.